Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video come da titolo riguardante tutti i nuovi prodotti che usciranno da Lidl per la festa della mamma 2018. Tutti i prodotti di cui vi parlerò appunto in questo video sono disponibili da volantino da lunedì 7 maggio 2018 fino naturalmente ad esaurimento scorti. Non sono prodotti che entreranno in collezione permanente ma sono come sempre delle limited edition, ossia di prodotti che andranno poi piano piano a sfumare fino ad esaurimento scorte. Per questa sezione dedicata a tutte le mamme appunto troviamo alcuni prodotti nuovi quindi che non sono mai usciti e infatti tantissime di voi su Instagram mi hanno chiesto cosa ne pensassi di alcuni di questi prodotti ma ragazzi credetemi io non ho la più pallida idea se alcuni di questi hanno buoni inci o meno perché comunque non li ho mai provati. Ma vi prometto comunque che lunedì entro da Lidl e vi girerò comunque un nuovo video per farvi vedere tutto ciò che ho acquistato e tutto ciò che naturalmente ha un buon inci. In primis abbiamo tutti i prodotti della Tropical Summer, la seconda riguarda gli smalti curativi per le unghie mentre la terza tutti i prodotti che non sono Tropical Summer ma sono semplicemente delle idee regalo molto carine. Parliamo dei prodotti Tropical Summer perché sono i primi che si trovano sul volantino e sono davvero tantissimi. Sien spray per piedi, la confezione contiene 100 ml e il prezzo è di 1,49 euro. Ancora per i piedi abbiamo il peeling per piedi, ancora prezzo 1,49 euro, questo è uno scrub e la confezione contiene 75 ml. Terzo prodotto il gel per piedi, sempre 1,49 euro, 75 ml. La mousse per piedi, 150 ml, prezzo 1,79 euro. Ragazzi, io non so assolutamente se questi prodotti hanno o meno un buon inci perché mi ricordo che uscirono l'anno scorso e non avevano un buon inci, ma non so se sono stati riformulati. Quindi io prima di dirvi una qualunque cosa preferisco andare e essere sicura perché non voglio dirvi assolutamente alcuna bugia. Quindi rimanete sintonizzate sul canale, lunedì saprete tutto. Abbiamo ancora nuovi prodotti della Tropical Summer, quelli che vi menzionerò adesso sono tutti nuovi, nel senso che io non li ho mai visti e non so proprio dirvi nulla. In primis abbiamo l'acqua spray che ha una confezione molto simile allo spray per i piedi di cui vi parlavo prima, prezzo 1,29 euro. Il burro cacao disponibile in tre fragranze, 4,8 grammi di prodotto a confezione, prezzo 99 centesimi. La maschera gel viso, prezzo 1,19 euro, disponibile anche questo in tre fragranze, salviette struccanti, prezzo 89 centesimi, contengono 25 pezzi ogni confezione. E anche queste credo siano di diverse fragranze, almeno due diverse ce ne sono. Passiamo poi alla parte dell'autoabbronzante. La chiamo così perché praticamente usciranno lunedì quattro nuovi prodotti autoabbronzanti, che non avevo mai visto, né tra la Tropical Summer, ma neanche in generale da Lidl. Chiamo la crema autoabbronzante, 75 ml a confezione, 2,49 euro. Latte autoabbronzante, 250 ml, 2,99 euro. Mousse autoabbronzante, 3,49 euro, questo è un prodotto molto interessante. E poi anche questo lo vorrei assolutamente provare, sperando che abbiano tutti un buon inci. Spray autoabbronzante, 200 ml a confezione, 2,99 euro. Ragazzi, io veramente non so cosa dirvi perché comunque i prezzi sono ottimi. Ti vi voglio parlare di due uscite di lunedì, ma che naturalmente già avevo acquistato lo scorso anno e di cui vi darò anche una piccola recensione perché comunque, come vedete, ho provato tutto. Troveremo degli smalti, sempre smalti limited edition Tropical Summer, prezzo 1,49 euro. Io l'anno scorso ho acquistato questo qui che si chiama Quaz, è un color Tiffany bellissimo. Avete già visto questo smalto all'azione perché comunque l'ho utilizzato con voi in un video in cui faccio il semi permanente con gli smalti normali. Ve lo lascio qui sopra così lo vedete, è molto breve. Le confezioni sono molto carine e contengono 8 ml di prodotto e hanno un pao di 12 ml. La crema Mani esfoliante, 75 ml di prodotto a confezione, 1,19 euro. Naturalmente ho acquistato anche questa crema Mani che, devo dirvi, è ottima. Ha un inci fatto benissimo perché è a base di oli e glicerina e come vi ho detto anche, mi ricordo, nel video in cui l'ho provato con voi la prima volta, ha un profumo spettacolare buonissimo e, come vedete, il prodotto in sé è una vera e propria crema, però ha all'interno delle microparticelle che fanno appunto l'effetto scrub. Si sente che fa lo scrub sulle mani o comunque su qualsiasi altra parte del corpo, ma comunque, adesso ecco lo mettiamo qui, ma comunque non è molto fastidioso e soprattutto ha un odore fruttato esotico buonissimo. Vi consiglio assolutamente di provarlo perché comunque ha un prezzo buonissimo. Secondo prodotto che già ho provato lo scorso anno è il Levasmatto ad immersione Sienne, prezzo 1,79 euro. Come vedete, io ho questo qui col packaging non floreale come quello della Tropical Summer, ma comunque, ragazze, è la stessa identica cosa. Infatti anche questo l'ho pagato 1,79 euro, contiene 75 ml di prodotto, la forma è la stessa, è molto valido, ha un rapporto qualità-prezzo ottimo, toglie bene lo smalto e soprattutto con quelli più chiari, rossi, funziona benissimo. Con quelli molto scuri o quelli effetto gel ci vuole un pochettino di più per girare, tende a lasciare un po' di prodotto, non a toglierlo ecco al 100%. Ed infine, ultimo prodotto Tropical Summer, abbiamo la crema Mani, 300 ml a confezione, prezzo 1,79 euro. Non ho acquistato questo prodotto, quindi non so dirvi se ha almeno un buon inchi. Proseguiamo con gli smalti, diciamo, curativi o comunque la linea degli smalti. Gli smalti Sienne composti da tre passaggi, ossia quelli che servono per fare la manicure. Il prezzo è di 1,79 euro. Sempre 1,79 euro abbiamo lo smalto Top Coat effetto gel, che è la stessa identica cosa di questo, che come vedete è super consumato perché lo adoro e lo uso tantissime volte. Contiene 11 ml di prodotto e ha un pao di 12 mesi. Lo smalto che vedrete sul volantino e in negozio ha un packaging esterno diverso, ma comunque è sempre la stessa cosa. Provatelo e vi troverete molto bene. Qui lo smalto sbiancante, sempre 1,79 euro, sempre 11 ml e anche questo ha un buon inchi. Ah, non ve l'ho detto prima, comunque tutti i prodotti di cui vi parlerò adesso hanno tutti ingredienti ottimi. Smalto Top Coat, sempre 1,79 euro, però non è quello effetto gel, ma è il classico smalto Top Coat Sienne. Questo qui è proprio identico a quello che uscirà appunto lunedì, contiene 11 ml di prodotto e ha un pao di 36 mesi. E questo, come vedete è nuovo, l'ho utilizzato praticamente pochissime volte. E fra questo e quello effetto gel preferisco senza dubbio quello effetto gel. Questo, diciamo, dura un pochettino di meno. Sempre per 1,79 euro, però forse non ne vale troppo la pena acquistarla, abbiamo la penna Correggi Smalto. Un prodotto che invece ho utilizzato molto, come vedrete che mi è piaciuto tantissimo, è lo smalto rinforzante per unghie. Prezzo 1,79 euro. Lo utilizzo davvero spessissimo e si chiama Calcium Boulder by Sienne. La confezione contiene 11 ml di prodotto e ha un pao di 36 mesi. È praticamente quello color celestino, per capirci. Io lo utilizzo soprattutto quando inizio a vedere che ho le unghie un pochettino sfaldate o che tendono a rompersi. Siero nutriente per unghie e piccole. Prezzo 1,79 euro. Confezione da 11 ml. Ed infine sempre 1,79 euro. Questo prodotto qui, che come vedete è molto molto liquido. Infatti sembra che non l'ho utilizzato molto, ma in realtà ne basta davvero pochissimo. Perché non è un vero e proprio smalto, ma è un olio nutriente per unghie. Io in realtà lo uso per lo più come olietto per le cuticole. L'ultima parte di questo video sarà poi dedicata ai prodotti extra, non unghie e non della Tropical Summer. In primis abbiamo lo shampoo e balsamo Sien Professional. 1,11 euro anziché 1,49 euro con il 25% di sconto che non ha un buon inci. E poi abbiamo le De Parfum Saddley Madame Glamour. 50 ml a confezione. Prezzo 3,79 euro anziché 4,99 euro con il 24% di sconto. Ho acquistato questo profumo perché fra tutti era quello che mi piaceva. Sono stata attratta dal fatto che è un vero e proprio De Parfum. Questo profumo, come naturalmente tutti i profumi inventati da Lidl, sono dupe di profumi famosi. Questo nello specifico corrisponde ad un profumo di Chanel, ossia Coco Mademoiselle. E appunto sono stata spinta ad acquistare questo prodotto, Coco Mademoiselle, è l'unico profumo Chanel che mi piace. Ed infine, questo è un prodotto che ragazzi già sapete che vi consiglio di acquistare, è l'anticellulite, l'olio anticellulite Sien alla betulla. E anziché 3,99 euro abbiamo un euro di sconto, viene 2,99 euro. È questo olio qui, ragazzi come sapete l'adoro, è il mio olio anticellulite preferito, lo utilizzo estate, inverno, giorno, notte. Come vi ho detto anche nel famoso video review, in cui vi faccio vedere anche proprio il massaggio sulla mia gamba, come lo faccio. Ha un profumo ottimo, ha un inci ottimo. La confezione, come vedete, è in vetro e ha questo dispenser, così che, diciamo, aiuta anche a non sprecare il troppo prodotto. Ed infine vi parlo delle 3 confezioni regalo. Due sono del marchio Vivo di Natura Bio, che avete già visto qui sul canale, in quanto ve ne ho parlato questo Natale. Mentre la terza, già vi dico che non ha un buon inci, è la confezione regalo di Dab. Riguardo appunto Vivo di Natura Bio, troviamo due scatole molto molto belle, appunto regalo. E la prima è quella più piccolina, prezzo di 5,99 euro, e è la confezione regalo donna, vivace, armonie, latte corpo e bagno doccia. Confezione regalo donna, soffice a braccio, prezzo 9,99 euro, che praticamente era quella con i packaging tutti gialli, di cui vi ho parlato in altri video, e contiene burro corpo, crema mani, stick, labbra e bagno doccia. E appunto abbiamo 4 pezzi con buon inci, a 9,99 euro, perché comunque vi dico che sia questa che la confezione di cui vi ho parlato prima hanno ingredienti ottimi, perché proprio sono del marchio Vivo di Natura, ma Vivo di Natura Bio. In primis abbiamo il bagno doccia, che ha la confezione da 400 ml, e tutta la linea ha questo odore, pungente ma allo stesso tempo dolce, molto molto buono, mi piace tantissimo, ha un po' di 12 mesi, la rendo più una profumazione, diciamo, invernale. Il prodotto dentro è un bagno schiuma in gel, che non secca la pelle. Per me è un prodotto promosso e mi piace tantissimo. Poi abbiamo il burro corpo, sempre Vivo di Natura Pure Beauty, questo contiene 150 ml di prodotto e ha un pao di 6 mesi. È praticamente un classico burro corpo, quindi devo dirvi ragazze che non si assorbe assolutamente facilmente. Vi faccio vedere, praticamente prelevando il prodotto, questo è tantissimo, impiega tantissimo tempo ad assorbirsi. Se lascia tantissima scia bianca, cioè guardate il mio braccio, ha una profumazione buonissima, tende a lasciare la pelle un pochettino appiccicosa. E stesso discorso lo fa anche la crema mani, che contiene 75 ml, prego lo stesso buon odore della crema del burro corpo, soffice a braccio, ha un pao di 12 mesi. E anche qui ragazze, tende a lasciare le mani molto molto appiccicose. Infatti questa ve la consiglio soprattutto l'inverno come crema per i piedi. Della confezione faceva parte naturalmente anche un burro cacao, un balsamo labbra, che è un semplice balsamo labbra non colorato, che ha la stessa profumazione ottima di tutta questa linea, però ragazze, cioè su di me non è assolutamente nutriente, anzi dopo 5-10 minuti dell'applicazione tende a seccare le labbra. Quindi diciamo che come qualità di prodotti, a 9,99€ ce ne sono 4, ci siamo, però dovete capire il concept di questi due prodotti, perché comunque sono più adatti all'inverno e a pelli molto molto secchi. Comunque ragazzi, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando come sempre un bacio grande, fatemi sapere se voi avete provato questi prodotti per la festa della mamma, se vi siete trovate bene o meno. Vi ricordo come sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina, venitemi anche a seguire su Instagram per tutti gli ultimi aggiornamenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! 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 Ciao!